La droga era tenuta nascosta in terrazzo. 98 ovuli e 24 panetti di hashish del peso di circa 3 kg. Il blitz è stato compiuto dai finanzieri del comando provinciale di Pescara. L'attività info-investigativa condotta nell'ambito del piano d'azione drug market contro il traffico di sostanze stupefacenti è stata attuata con la tecnica di OCP. Osservazione, controllo e pedinamento. Si tratta di due uomini, padre e figlio, pusher già noti alle forze dell'ordine per precedenti nel traffico di droga. Raggiunto dalle fiamme gialle, il 59enne in casa alla presenza del figlio di 28 anni ha subito consegnato mezzo panetto di hashish di 40 grammi. Grazie all'ausilio delle unità cinofile e in particolare del cane Daphil, ben occultate nella tettoia del terrazzo esterno, sono state rinvenute le dosi preconfezionate di droga dal valore di mercato di oltre 10.000 euro. Il padre, che già era stato arrestato in flagranza per traffico di sostanze stupefacenti durante le vacanze di Natale, era appena uscito di prigione per la revoca della custodia cautelare in carcere. All'uomo che si è assunto la piena responsabilità del fatto di scolpando il ragazzo, i finanzieri hanno di nuovo contestato il reato di detenzione illecita di droga ai fini di spaccio per il pusher, quindi sono scattate le manette e l'ennesima traduzione nel carcere di Pescara.